Giochiamo insieme a questa sera, amici di Reazione a Catena, con i nostri campioni. Partendo da specie, CA a finale e il terzo elemento. Forza ragazzi! Ok, vediamo. Allora, a me... Inizialmente non mi viene il momento. A me calamita è venuto. Calamita ma con specie. Capacità della specie. Capacità. Capacità forse. O catena, che può essere interessa. Catena, catena. Evolutiva. Evolutiva. Perché no, catena evolutiva. La specie può essere un anello. Esatto. Una certa specie può essere un canello. Un anello di una catena evolutiva. Sì, sì, sì. Canali? Canali? No. Cambia. Cambia. Però... Un sinonimo di specie sempre, però non sono tanti. No. Genere. Camicia. Qualche modo di dire con specie. Specie protetta, però siamo sempre... Animali, cose del genere. Far specie. Far specie. Una cosa che far specie potrebbe essere... Scalcore. Sì, io comunque... Come dire, sì. Ma non ce lo vedo con scalcore. Non ho il nesso. Non parlo di far specie. Far specie. C'è la mita che ha strata catena. Catena c'è, potrebbe essere la mita. Catena, per il momento, è quella che è più logica. Sennò cosa può essere calamita? Calamita della specie non si può dire. No, calamita no. Non ha senso. Non può essere calamita. Cattura. Cattura. Cattura, no. Catturata, cattura. Cattura. Già un pochino più... Cattura. Cattura. Cattura da la specie. Non so, non sono convinto neanche... De cattura. Allora, Lorenzo, che avete deciso di fare? Abbiamo deciso di comprare il terzo elemento. Ok, il terzo elemento. Attenzione. 6.313 euro ancora. Ecco il terzo elemento. Serie. Serie a catena. Catena. È una produzione in serie. Catena di montaggio è una produzione in serie. La catena di montaggio è una produzione in serie. È una specie, è una catena di evolutiva, una... È un anello della catena. È un anello della catena. È forzata. È forzata. Dovremmo trovarne altre. Serie. Beh. Categoria. 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 Una specie, magari, una categoria protetta. Sì. Sì. E la serie A. Delle categorie. La categoria potrebbe essere sinonima. Sì. Sì. Serie e categorie. Forza meglio. A me piace anche catena. È però... Forse... Forse più categoria. Categoria. Perché catena è serie. Perché catena è serie, produzione è serie. È. Però la catena è la catena di montaggio. Non è la stessa cosa. Sì, sì. Sì, sì. Categoria e serie. Categoria e serie. Può essere una categoria di una serie, fantasy o quello che è... Anche sui generi potrebbero mandare, sì. Categoria. Paltron. Palma. Attenzione, il tempo è scaduto. E allora, Lorenzo, qual è la parola di stasera? Proviamo con categoria. Togliamo le cuffie. Categoria. Come siete arrivati a categoria? Ma, allora, serie e categoria possono essere sinonimi se si parla di campionati di calcio. La serie A è la categoria principale, la serie B la categoria cadetta. Si può utilizzare magari nel linguaggio sportivo. Categorie e specie, anche lì, possono essere utilizzate come sinonimi. Una categoria di animali può essere una specie di animali. Però altre connessioni... Avevate altre parole? Catena. Non avevamo catena. Però... Non avevamo catena. Non avevamo catena come più papabile. Esatto. Però... Altre no. La parola di stasera... Del valore di 6.313 euro è... È categoria! La parola di stasera... Sì! E andiamo! Bravi!